Qui a casa di Silvia Ali Prandi Ciao Per questa cena sequenziale top Allora, ovviamente si parte dal melone a cuoricini Poi là vedo una bella insalatona E addirittura l'insalata Addirittura, quella no, l'insalata russa No, no, non è possibile, dai L'insalata russa Incredibile Pomodoro con canale di cucunci Qui vediamo i famosi gnocchetti Quelli molli, non quelli schifosi, duri E qua non ci credo, grissini Cosa sono questi? Il cracker Questo non è un cracker, questo cos'è? Sono dei cracker a forma di triangolino A forma di fiorellino Poi rotondi Olive denocciolate Qua ci sono Questo è il famoso olio denocciolato No, questo non può essere pane carasau fruttariano Pane carasau fruttariano Ma non ci credo Mi ha fatto anche una versione più Guarda qua, che croccantezza No, non è possibile Questa è frutta? Cioè, questa è frutta Questa è frutta Hai fatto anche la versione più scottata Per gli onnariani Per gli onnariani Bruciata questa, dai Senti, ma poi proseguendo Qui abbiamo il famoso fornetto della Ferrari Che ti ha dato proprio Enzo Ferrari In persona Prima di abbandonare questo pianeta Qui il jackfruit Per dopo Per fare Jackfruit maturo? No No, acerbo No, acerbo è cotto Un po' di spaghetto Un po' di melanzana top La super melanzana top Qua vediamo un platanone E ci stava cadendo La famosa papaya acerba Con cui fare Il couscous Ma non ci credo Hai fatto l'insalata capricciosa Cioè, il fatto No, è possibile Non puoi aver fatto contemporaneamente L'insalata russa E contemporaneamente Anche l'insalata capricciosa No Cioè, non è fruttariana questa, no? Certo 100% Ma L'avocado Qui cosa c'è? Fagiolini E anche il minestrone Unendo Questo cos'è? Bellutata di zucca Zucca mantovana? Certo Ma siamo al top La mantovana Siamo al top E questo? Il sughetto con le melanzane Il sugo la norma? Sì, tipo Questo? Vuoto E l'acqua dopo L'acqua C'è anche l'acqua Per i gnocchi Poi facciamo vedere Una bella papaya Che sta di L'Iguirizia Le sono le mele La lucchese Che sta diventando Maturo Bene Possiamo Io inquadrerei là La maionese Che hai fatto Maionese di frutta Inquadrerei la capricciosa E reinquadrerei Anche la famosa Ricordiamoci Che la granada di Pucucconci Fa il famoso Simula il pomodoro Con il origano Sta avendo la collina in bocca Quindi mi sa che Chiuro sta diretta E mi pappo Sta insalata Rouge Vabbè però Merita anche Per inquadrare Il pane carasau Di Silvia Aliprandi Ebbè Ebbè Quando è che verranno Le telecamere A casa tua E non per intervistare Il trota Novi Ma per intervistare La top fruttariana Tra l'altro oggi Miss Super Fruttariana Quando volete Direzza Paladin Vieni Quando vuoi A fare la cena La cena A fare tutto Facciamo una bella diretta Televisiva Bene Bene Dai Candidati grillini Candidati presidente Se ci sono simpatici Potranno venire Se no Se ne stanno a casa Dipende Da cosa faranno Dai il trota Novi Se divulgano Quel che Ma si Trota Novi Lo facciamo venire Dai Ciao Gianmarco Ciao